Nelterra, from England, one hundred and ninety three, Mr. Lumber and Mrs. Lumber. Per l'Italia, coppia numero cento novantaquattro, il signor Cacciari e la signorina Ricci. Per l'Italia, coppia numero duecento tre, il signor Selmi e la signorina Fancello. Per l'Italia, coppia numero duecento venti, il signor Maggioni e la signorina Adalberti. Ancora per l'Italia, coppia numero duecento ventiquattro, il signor Schiavo e la signorina Arzentone. Queste sono le sei coppie finaliste. Grazie. Primo ballo per la finale. Balzer inglese, English Waltz. I wonder, should I go or should I stay? Ma è bene, non è vero? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' molto bello questo valter inglese, molto dolce, il tango. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.